Salve a tutti, sono Lorenzo Redi e assieme a Massimo Pisani, Daniele Napoletano e Corra Donanza ci presteremo a spiegare il nuovo progetto Python, Travelbot. Travelbot è un bot intelligente, un upgrade di Travel2. Questo miglioramento prevede, oltre ai servizi offerti da Travel2, precedentemente spiegato, comprende altre funzionalità tra cui informare tempestivamente l'utente di eventuali guasti sulla linea, mostrare a video la mappa della metropolitana, informare e guidare l'utente all'acquisto dei biglietti, indicare l'ordine delle fermate della linea selezionata e informare all'utente circa i orari di funzionamento e delle corsie. Lo scopo di Travelbot è implementare delle migliorie al servizio Travel2, precedentemente installato in tutti i terminali della metropolitana di Roma. In alternativa, l'utente potrà scaricare l'aggiornamento dell'app Travel2 per dispositivi mobili, basati su sistemi operativi iOS e Android. Per la spiegazione del codice sorgente, passo la mano al mio collega Pisani Massimo. Salve a tutti. Continuiamo adesso quindi con la spiegazione del codice effettivo, del codice sorgente di Travelbot. Inizierò, insomma, prima ad elencare quelle che sono librerie aggiuntive rispetto a quelle che troviamo di base, inclusa nel Python, che saranno la libreria NLTK, che è una libreria del linguaggio di programmazione Python specifica per elaborare il linguaggio naturale. E infatti il suo acronimo in inglese è Natural Language Toolkit. La seconda libreria aggiuntiva, invece, è NumPy, che è uno strumento di calcolo numerico che offre funzioni matematiche complete di alto livello per poter operare su strutture di dati. E in più, noi poi abbiamo, insomma, TensorFlow, che è invece una libreria di software usata per l'apprendimento automatico ed è utilizzata anche per il deep learning, nello specifico. E come ultime due, insomma, librerie aggiuntive abbiamo BeautifulSoup, che ci consente, insomma, di analizzare le pagine web in HTML e PySweep, che ci consente, invece, di integrare nel codice Python il codice Prolog, insomma. Analizzando, insomma, iniziando a parlare di come è strutturato questo programma, dobbiamo prima un attimo menzionare cos'è il doc.json, che vediamo subito qui alla riga numero 30. Il doc.json rappresenta quella che è la base di conoscenza del mio programma, in questo caso, e conterrà al mio interno una lista di intents. Intents, per noi, saranno tutti quanti quelli che sono le varie interpretazioni rispetto a una sentenza del mio bot. E notiamo come ogni intent ha un suo tag, insomma. Il tag, insomma, identifica quella che è la domanda che è stata fatta al bot. E ogni tag sarà poi, insomma, accompagnato da un pattern e da una risposta. Il pattern è, insomma, una domanda o comunque l'area semantica che si può associare a una domanda dell'utente e che è questo, appunto, lo scopo principale del bot, perché noi gli daremo in ingresso un numero limitato, insomma, di domande tipo o comunque di sentenze tipo che l'utente potrà fare. E poi sarà scompito dell'utente, in base alla, insomma, alla semantica che riconoscerà nella sentenza dell'utente, andare ad associarli poi il tag. Ovviamente poi al tag abbiamo detto che è associato una risposta e quindi ogni tag avrà una risposta che il bot darà poi all'utente. Devo dire una cosa in aggiuntiva è che il programma è stato fornito di due basi di conoscenze differenti che possiamo vedere qui. Datemi un secondo, scusatemi. Ecco qui, quindi avremo due tipi di testo doc.json. La loro differenza è che hanno dei pattern differenti, quindi abbiamo provato ad utilizzare due tipi differenti di pattern. Un primo utilizzando domande stese, quindi anche con pronomi, verbi e, insomma, avverbi, eccetera, eccetera. Mentre nell'altro abbiamo cercato di limitare il più possibile i pattern per tenerci più generici possibile. Quindi andiamo adesso a vedere come si struttura il nostro programma. Quindi subito dopo altre due costanti che vedremo poi a cosa ci serviranno, abbiamo subito un blocco di codice che servirà per andare ad estrapolare dai nostri file.json informazioni. Avremo una lista Word che sarà costituita da tutte quante le Word contenute in pattern. Una lista tag che conterrà appunto, una lista, scusatemi, labels, che conterrà al suo interno tutti quanti i tag presenti nel documento json. E due liste, docsx, che al suo interno conterrà liste di pattern, quindi appunto quelle che abbiamo visto prima. E docsy, che conterrà al suo interno i tag corrispettivi a quelle liste di pattern. E saranno ordinati, insomma, nella stessa maniera. Continuiamo poi col definire due altre liste, training ed output, che saranno le liste fulcro che serviranno per allenare quello che sarà la nostra rete neurale, che andremo a costruire poi in seguito. Lo schema costruttivo di queste due liste sarà quello delle one-hot encoded, cioè nella lista andremo a porre, insomma, al posto di effettivamente delle stringhe, andiamo a porre dei numeri interi, che potranno essere o 0 o 1, in base a se troviamo o meno la parola nella nostra documentazione. Cioè andremo a creare un vocabolario e in base alla sentenza la lista dovrà restituirci un codice, un 0, insomma, se quella determinata parola in quella determinata posizione è stata trovata, oppure un 1 altrimenti. e le liste saranno create attraverso dei codici for molto banali, insomma, si tratta semplicemente di aggiungere numeri a una lista che è essenzialmente vuota, in base a se viene trovata o meno la corrispondenza nel nostro vocabolario. Quindi, vediamo che poi il tutto è contornato da un ciclo tra i except, in maniera tale da avere un'ottimizzazione in più aggiuntiva al programma. Cioè, se il nostro programma all'avvio riesce a trovare, insomma, un file data, allora il programma, insomma, farà partire, caricherà quel file e non dovrà rifare, insomma, tutto quanto il processo di calcolo dal nostro documento. Segue poi un altro blocco di codice, che è quello che creerà il nostro modello, insomma, il nostro modello di rete neurale. La nostra rete neurale avrà come input un layer formato da un numero di neuroni pari a quanta è la grandezza del nostro vocabolario costruito dal, insomma, dal documento, do JSON. E seguirà poi al layer di input due layer nascosti, formati a loro volta da otto neuroni e, infine, avremo un layer di output che avrà una grandezza pari, insomma, alla lista di output che abbiamo visto prima, che abbiamo costruito prima e che avrà un tipo di attivazione softmax. Che vuol dire attivazione softmax? È un tipo di attivazione che consente ad ogni neurone di avere, insomma, un indice probabilistico di quanto il bot crede che sia quel determinato tag o meno. Quindi noi praticamente in uscita avremo una lista di tag e, diciamo, in maniera ordinata avremo poste tutti quanti gli indici di probabilità rispetto ad ogni tag, quindi in questo caso greeting, goodbye, metroline, eccetera, eccetera. Seguono poi una serie di, insomma, funzioni basilari, quali bag of words, che servirà a creare un numpy array che al suo interno porrà, insomma, una lista di tutte quante quelle che sono le parole in maniera ordinata e sempre in maniera one-hot encoded, insomma. Quindi porrà, ad esempio, se troverà una parola all'interno del documento iniziale rispetto alla sentence che noi gli diamo in ingresso, che la sentence si intende quella dell'utente, gli darà un uno se quella determinata parola trova una corrispondenza all'interno del documento o altrimenti gli darà uno zero. Poi abbiamo le altre funzioni, quali attraction, che è la funzione che, insomma, sfrutterà il codice prologue già implementato in Travel True e attraverso, insomma, una serie di righe di codice, insomma, andremo a fare una query al database prologuecode.pl che si troverà nella cartella iniziale del programma in Python e andrà a fare una query rispetto a visit. Quindi prenderà, insomma, in ingresso una first stop e una last stop e la query, poi, attraverso la query, attraverso, insomma, l'elaborazione dei dati della risposta della query, noi andremo a trovarci una lista di attrazioni, una lista di fermate e, insomma, il tempo che impieghiamo per raggiungere la nostra fermata di destinazione. Poi abbiamo la funzione news. La funzione news utilizzerà la libreria Urlib e quello che farà è semplicemente mandare una richiesta al sito internet delle news della metropolitana di Roma con anche un user agent, altrimenti il sito ci bloccherebbe l'accesso e attraverso, insomma, la funzione read leggiamo il codice esargente HTML e con BeautifulSoup andiamo a identificare tutte quelle che sono i blocchi di testo all'interno del sito che contengono l'informazione della notizia e ritorneremo poi una lista di tutte le notizie, una lista di string, ovviamente. Poi abbiamo la funzione transaction, è una funzione molto basilare, si vede, è una funzione che ci permette all'utente di comprare i ticket, quindi alla fine è molto basilare, ha molti print e cicli tra i accept e while true perché è presente un input da parte dell'utente quindi qualora quello input dovesse essere sbagliato queste stringhe di codice permettono di mantenere l'esecuzione del codice senza far partire un'eccezione. E infine, in uscita, dopo aver chiesto i dati della carta all'utente, ci ritornerà una lista dove al suo interno avremo il numero della carta, data di scadenza e il numero CCV. Arriviamo quindi alla funzione principale chat predict che prenderà in ingresso una sentenza che è alla fine una stringa fornita dall'utente, appunto. Questa sentenza verrà poi posta, insomma, verrà sempre posta in ingresso alla bag of words quindi si creerà un unpy array verrà dato in ingresso al model.predict insomma la funzione predict del model e verrà creata quindi una lista di tutte quante quelle che sono i valori percentili di quanto, insomma, il bot crede che possa essere un tag o meno all'interno del documento .json. Ovviamente saranno esclusi da questa lista tutti quelli che sono i valori che risultano inferiori al 50% proprio per un motivo di evitare, insomma, incomprensioni di alcun tipo e in uscita a questa funzione sarà ritornata quindi la lista con i valori, insomma, in percentili più alti del 50%. E soprattutto c'è da dire che la lista che verrà, insomma, data in uscita non è una lista, insomma, normale ma, cioè, che contiene solamente valori percentili ma bensì conterrà una tupla cioè una sorta di lista doppia che conterrà come primo elemento il tag e come secondo elemento il valore percentile che lui crede che possa essere e tutto quanto posto, appunto, nella lista. Poi, alla fine, finiamo il tutto con una funzione di main che non fa altro che raggruppare, insomma, tutte quante quelle che erano le funzioni che abbiamo visto prima attraverso degli if e in maniera tale che se il bot, insomma, non capisce una determinata domanda che gli ha fatto l'utente risponde con un codice di errore altrimenti se vi è un'ambiquità quindi se vi è, insomma, una lista che ha come indice di valori un indice di valori pari a due o di più di due, insomma il bot darà possibilità all'utente di far scegliere, insomma, la domanda che più ritiene corretta. Alla fine, insomma, arriveremo all'ultimo caso all'ultimo blocco di codice if che in base ad ogni tipo di tag il bot farà un'azione differente oppure, insomma, risponderà in base a quelle che sono le risposte già poste all'interno del documento. Finito il discorso sul codice sorgente possiamo iniziare a vedere un esempio pratico appunto del nostro bot. Quindi, iniziamo con una prima domanda ed è quali sono, per esempio, le attrazioni che posso vedere a Roma? Quindi, what attraction can I see in Rome? Il bot ovviamente non ci darà una risposta articolata in base alla nostra domanda perché ovviamente sarebbe molto più difficile di molto più difficile implementazione ma bensì ci farà delle domande specifiche sulle fermate dove ci troviamo e alla fermata alla quale noi vogliamo arrivare. Quindi, per esempio, supponiamo che siamo a Piazza di Spagna quindi iniziamo come starting stop Spagna last stop Colosseo e vediamo che ci fornirà una lista di attrazioni quindi Colosseo, i fuori romani, Pantheon, eccetera, eccetera una lista di fermate che noi dobbiamo effettuare prima di arrivare a Colosseo quanto tempo ci mettiamo per arrivare alla mia destinazione e quanti cambi devo anche fare per arrivare a quella di destinazione. Un'altra domanda tipo che si potrebbe fare è quali sono le fermate della linea A e vediamo che il bot risponde correttamente mi darà proprio una lista di fermate di ogni di ogni linea insomma della metro oppure ad esempio quali sono i differenti tipi di insomma di biglietti che posso trovare per la metro di Roma quindi show me different types tickets e vediamo che mi darò la lista di tutti quanti i biglietti disponibili per la metro di Roma e supponiamo adesso che vogliamo comprare un biglietto quindi che noi buy a ticket ecco che il bot ci dirà ci dirà di nuovo tutta quanta una lista più ovviamente contenuta con soli prezzi noi vogliamo comprare per esempio il BT ne vogliamo prendere tre e ci dirà il costo totale anche dell'operazione che dobbiamo andare a fare e mettiamo un numero di carta una data di scadenza e un codice CCV questi dati che insomma avrà il bot ovviamente in questo caso non saranno trattati a dovere cioè saranno diciamo cifre che rimarranno salvate all'interno della memoria temporanea del bot e che quindi in questo caso non stiamo implementando però in realtà si potrebbe fare anche un codice più elaborato dove questi questi dettagli di pagamento che va a prendere dall'utente li va poi a elaborare attraverso una libreria magari esterna che non lo so lavora con Paypal con Postepay e tutte quante le maggiori carte insomma presenti in Italia e va a fare effettivamente il pagamento fisico magari su un sito internet della metropolitana in Roma quindi questa saprebbe essere un'idea futura da implementare nel chatbot un'ultima altre due domande tipiche che possiamo fare sono ad esempio vedere le notizie attuali sulla metro di Roma quindi show me the news ed ecco che il bot ci dà proprio la lista di tutte quante quelle che sono le ultime notizie prese dal sito di internet della metropolitana di Roma si può vedere come andiamo proprio sul sito della metropolitana di Roma andiamo sul sito delle notizie ecco qua che possiamo vedere come insomma questi due testi corrispondono e è andato effettivamente sul sito insomma a prendere i valori come ultimo come ultimo insomma come ultima domanda possiamo vedere chiedere insomma al bot di mostrarci una mappa quindi che ne aveva mappa ed ecco qui che il bot è andato a scaricare direttamente dal sito quello che era quello che era la mappa della metro di Roma con tutte quante le sue fermate e insomma ci dà un'idea generale di come è disposta la metropolitana di Roma detto questo abbiamo finito per questo video vi ringraziamo per la vostra attenzione e alla prossima